le 20 e 30 buonasera e benvenuti al tg 2000 in apertura di telegiornale torniamo a parlare di padre paolo dall'olio il sacerdote gesuita rapito cinque anni fa in siria esattamente il 29 luglio del 2013 da allora su di lui solo voci ma per amici e parenti resta viva la speranza caterina dall'olio l'islam mi è stato come proposto durante gli esercizi spirituali il mio signore mi dà una missione che riguarda un'urgenza così parlava padre paolo dall'olio gesuita nel 2012 pochi giorni prima di partire per la siria il 29 luglio 2013 padre paolo entra in quello che sarebbe diventato il quartier generale dell'isis a racca in siria voleva trattare per la liberazione di alcuni ostaggi ragazzi con cui lui collaborava da lì si perdono le sue tracce e di lui non si sa più nulla siamo al punto che non si hanno nessun tipo di notizie sulla situazione di paolo né chi l'abbia rapito né se sia o meno ancora in vita sono passati cinque anni dal rapimento e ricordo di padre dall'olio vivissimo in chi lo ha conosciuto come promotore del dialogo e della pace islamo cristiana che praticava da quando nel 1991 aveva fondato la comunità cattolica di rito siriaco di marmusa circa 80 chilometri a nord di damasco in una conferenza la federazione nazionale della stampa questa mattina è stato ricordato il sacerdote il giornalista che scriveva per la rivista gesuita il popolo e per l'uffington post cercando di trasmettere l'urgenza della situazione in siria che in quegli anni stava cambiando rapidamente e che lui in modo quasi profetico aveva intuito ha detto se i cristiani sostengono il regime perché hanno paura degli islamisti lasceranno la siria racca adesso è stata distrutta difficile trovare prove e testimoni che possano aiutare a far luce su quello che è successo a paolo dall'olio ma la speranza dei familiari e degli amici è viva sicuramente chi ha le responsabilità del suo rapimento o comunque di quello che è avvenuto lì io credo che possono avere alla luce di quello che è successo in questi anni un grosso ripensamento e c'è sempre una seconda possibilità nella vita e ora la cronaca con un altro presunto episodio di intolleranza a cassola nel vicentino un uomo ha sparato da un terrazzo colpendo un operaio di origine capoverdiana che stava lavorando su un ponteggio e non è stato l'unico della giornata sentiamo vito dettorre ha sparato un colpo dal terrazzo di casa e ha ferito un operaio immigrato che lavorava su un ponteggio si tratta di un quarantenne che adesso è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose l'episodio è avvenuto a cassola nel vicentino l'uomo raggiunto dal proiettile è un cittadino di capoverde un elettricista quando è stato colpito si trovava a circa sette metri di altezza sulla pedana mobile il pallino di piombo si è conficcato nella schiena dell'uomo di colore che è stato immediatamente trasportato all'ospedale san bassiano di vicenza la dinamica dell'episodio ricorda quello che ha causato il ferimento della bimba rom un fatto che ha suscitato l'indignazione del presidente della repubblica sergio mattarella l'italia non può somigliare al far west dove un tale compra un fucile e spara al balcone colpendo una bambina di un anno rigorovinandone la salute e il futuro l'episodio di cassola non sarebbe l'ultimo un richiedente asilo originario della guinea infatti ha raccontato ai carabinieri di caserta di essere stato colpito al volto con una pistola d'area compressa facendo salire ad otto negli ultimi 45 giorni i casi di immigrati colpiti in strada con armi senza contare la sparatoria di macerata del 3 febbraio scorso il processo a carico del 28enne luca traini è ancora in corso per tentata strage aggravata dalla finalità di razzismo adesso andiamo in grecia nelle zone intorno ad atene devastate dagli incendi forze di natura dolosa che hanno causato oltre 80 vittime un bilancio che potrebbe purtroppo aumentare visto che la protezione civile parla di un centinaio di persone ancora disperse si sarebbe potuto fare di più dicono i vigili del fuoco denunciando la mancanza di mezzi e risorse il nostro inviato massimiliano cochi quando i pompieri scendono in piazza vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato ci dice dimitrios stratopoulos che è il presidente dell'unione dei vigili del fuoco greci le polemiche che in queste ore stanno travolgendo il governo di atene nascono anche da qui dai tagli imposti dai creditori internazionali che non hanno risparmiato neanche il corpo dei vigili del fuoco all'inizio della crisi nel 2010 il nostro budget era di 500 milioni di euro oggi è di 350 un taglio netto del 25 per cento abbiamo 3200 veicoli 1800 autobotti ma almeno la metà sono fermi in officina e l'altra metà ha un'età media superiore ai 25 anni avevamo 26 canadair ne sono rimasti 18 ma solo 10 sono operativi gli altri li usiamo per i pezzi di ricambio mezzi obsoleti e pompieri costretti a pagarsi scarponi elmetti maschere tutto questo però nei roghi di lunedì notte ha contato poco perché quello di lunedì notte è stato l'incendio perfetto il caldo torrido il vento forte la conformazione della montagna il golfo chiuso sono state le condizioni ideali per il fuoco potevamo essere migliaia di pompieri lì comunque avremmo potuto fare poco il problema sono state le strade troppo strette le case che sono dove non dovrebbero essere la mancanza di ogni via di fuga e anche gli accessi alla spiaggia bloccati da palazzi alberghi e ristoranti saranno le inchieste a far luce sulle cause e sulle responsabilità di questa tragedia il ministro della sicurezza pubblica nico stoscas ha detto che gli investigatori hanno in mano tracce testimonianze e serie elementi per dire che dietro l'incendio che ha devastato l'attica ci sia la mano dei piromani gli incendi sono un'emergenza ogni estate oggi abbiamo avuto l'aiuto di molti paesi europei che ci hanno mandato elicotteri ed aerei ma tra poco andranno via e agosto da sempre per noi è il mese più a rischio ora la politica con lo scontro all'interno del governo sulla questione tav per il movimento 5 stelle il progetto può essere fermato ma la lega non ci sta accordo trovato invece per quanto riguarda le nomine alla rai sentiamo augusto cantelli la tav potrebbe saltare dopo tormentate riflessioni il premier conte si sarebbe piegato alla volontà dei vertici pentastellati di fermare la costruzione della tratta veloce torino lione ma il governo si divide per salvini infatti i lavori devono andare avanti anche perché fermarli sarebbe ancor più costoso i costi appunto a oggi finanziamenti della tav vengono così suddivisi 40 per cento dall'europa 35 a carico dell'italia 25 dalla francia per i ministri grillini ci si può liberare degli impegni sull'alta velocità restituendo i fondi all'europa circa 800 milioni di euro e senza penali con i francesi poi si dovrebbe aprire una trattativa diplomatica ma i risarcimento potrebbero essere onerosi oltre un miliardo di euro senza contare 350 milioni già spesi dall'italia motivo per cui dopo una prima accelerazione si prova a rallentare infatti il ministro toninelli sarà quello che deciderà quando nei prossimi settimane nei prossimi mesi di andare a parlare col suo omologo francese e avviare le contrattazioni e trattative l'abbiamo sempre detto ma non è ancora sul tavolo del governo sul proposta del ministro del tesoro tria il consiglio dei ministri dice sì a fabrizio salini come amministratore delegato della rai a marcello foa come consigliere di amministrazione una rivoluzione culturale annuncia sempre di maio che in tweet dedica lo scioglimento del comune di vittoria deliberato dal cdm a paolo borrometi giornalista che con le sue inchieste ogni giorno combatte la mafia questo scrive di maio è la giornalismo che ci piace e di cui c'è bisogno crescono le dichiarazioni dei redditi precompilate 450 mila in più rispetto all'anno scorso ecco un primo bilancio tracciato dall'agenzia delle entrate giuseppe caporaso sono 2,9 milioni le dichiarazioni dei redditi precompilate inviate direttamente dai cittadini al fisco una tendenza in crescita sottolinea l'agenzia delle entrate con 450 mila persone in più rispetto al 2017 è aumentata poi del 50 per cento la platea dei cittadini che ha restituito il 730 senza modificarlo tra le regioni quelle maggiormente attenti alla precompilata sono lombardia lazio e veneto l'identikit del contribuente fai da te di età compresa tra i 41 e 50 anni ed ha utilizzato nella maggior parte dei casi la chiave di accesso alla pubblica amministrazione chiamata speed seguito da fisco online e dalle credenziali inps anche tra i giovani il sistema precompilato sembra aver successo soprattutto tra quelli nella fascia d'età che va da 19 a 25 anni che fanno registrare un più 89 per cento rispetto all'anno precedente un primo bilancio dell'attività in ambito fiscale che ha visto inserito quest'anno nella dichiarazione precompilata le rette per gli asili nido e le erogazioni liberali alle ollus oltre alle spese mediche e farmaceutiche che già dallo scorso anno erano nel sistema precompilato la strada della dichiarazione fai da te è uno dei tre percorsi da seguire c'è infatti poi la possibilità di rivolgersi ad un professionista o come avviene per milioni di persone ai CAF i centri di assistenza fiscale presenti con gli sportelli in gran numero lungo la penisola ci sono due italiani e una donna una donna e un bambino di 4 anni tra le 5 vittime di un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa in Scozia erano a bordo di un minibus con altri turisti tutti connazionali che si è scontrato frontalmente con un fuoristrada sulla strada A96 tra Aberdeen e Inverness le altre tre vittime si trovavano sull'altro veicolo un uomo e una donna e due donne scusate tutti scozzesi gli altri 4 italiani che viaggiavano sul minibus sono stati tutti ricoverati nell'ospedale di Aberdeen due entrambi adulti versano ora in gravi condizioni la Corea del Nord consegna agli Stati Uniti i resti di 55 militari americani morti tra il 1950 e il 1953 durante la guerra di Corea un altro gesto segno del disgelo tra Pyongyang e l'Occidente Antonello Carvigiani un gesto simbolico atteso da tante famiglie la pace passa anche da qui in quelle piccole casse avvolte dalla bandiera delle Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza ad approvare la missione ci sono i resti di alcuni soldati americani morti in Corea tra il 50 e il 53 questa è la base americana di Haosan in Corea del Sud dove questa mattina è atterrato l'aereo con a bordo le piccole bare Kim Jong-un ha deciso di restituire oggi le spoglie di 55 militari americani il 27 luglio è un giorno simbolico 65 anni fa a Panmunjong viene firmato l'armistizio che ferma il conflitto e spacca la Corea tra un nord comunista e un sud amico dell'Occidente dopo quel giorno ci sono anni di tensioni a volte si è sull'orlo di una nuova guerra la svolta poco più di un mese fa il 12 giugno Trump e Kim si incontrano a Singapore Stati Uniti e Corea del Nord si incamminano sulla via della pace firmano un accordo tra i punti messi nero su bianco dai due leader anche il rimpatrio delle salme dei soldati americani in quella guerra ne muoiono oltre 35.000 5.300 perdono la vita a nord del 38esimo parallelo di loro non si ha più nessuna notizia ora si apre una storia nuova le famiglie dei dispersi aspettano notizie dei propri cari la pace intanto potrebbe essere più vicina e tra poco a partire dalle 21 tutti con il naso in su per assistere alla più lunga e spettacolare eclissi di luna del secolo il satellite della Terra si tingerà di un rosso vivissimo come ci spiega Letizia Davoli finalmente è arrivato il giorno dell'eclissi di luna la più facile da ammirare perché è estate la temperatura permette di stare piacevolmente all'aperto perché inizia subito dopo il tramonto e perché è la più lunga del secolo con i suoi 103 minuti di totalità occhi verso il cielo a partire dalle 21 circa quando la luna inizierà ad alzarsi dall'orizzonte sorgerà per chi lo osserva dall'Italia già parzialmente coperta dall'ombra della Terra ma la fase di totalità cioè di copertura totale del disco lunare inizierà alle 21.30 per finire alle 23.13 un eclissi di luna si verifica quando Sole, Luna e Terra sono perfettamente allineate con la Terra al centro una configurazione che impedisce la luce solare di raggiungere il nostro satellite naturale lasciandolo in ombra un'ombra che non sarà nera ma rossa a causa del passaggio dei raggi del Sole attraverso l'atmosfera terrestre che si comporta esattamente come un prisma un semplice fenomeno fisico che non ha nulla di misterioso ma che permette alla Luna di assumere questa sfumatura straordinaria in tutta Italia sono centinaia le iniziative organizzate per godere fino in fondo l'eclissi di questa sera mentre il web chiama a raccolta gli appassionati di astrofotografia per condividere con il mondo la bellezza del cielo in questa sera il sistema solare darà spettacolo non solo l'eclissi infatti accanto alla Luna sarà possibile ammirare Marte più brillante e rosso che mai e due giganti gassosi Giove e Saturno luminosissimi nel cielo privo della luce lunare pronti a scattare quindi o semplicemente ammirare perché sapere come funzionano le cose lassù non diminuisce lo stupore della bellezza e adesso il minuto di questa sera con Carlo Petrini fondatore di Slow Food che ci parla di una campagna sui comportamenti alimentari Slow Food ha lanciato una campagna internazionale dal titolo Food for Chain cioè dal fatto che cambiare i nostri comporti alimentari può essere utile rispetto al cambiamento climatico negli ultimi giorni è arrivata un'analisi dell'università di Oxford che rafforza questa posizione Gli studi che hanno fatto ad Oxford ci dicono che per esempio i bovini allevati su terreni disboscati producono 12 volte in più di gas serra rispetto a quelli allevati su pascoli naturali e c'è un consumo del suolo molto più intenso è giunta quindi l'ora di considerare che il cambiamento rispetto alle produzioni deve passare anche attraverso una responsabilità di noi cittadini consumatori sensibili a questo stato di cose Con questo è tutto per il nostro telegiornale io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di TV2000 Grazie a tutti